Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi con 1.506 abitanti ci troviamo a Palinuro nella frazione maggiore di Centola, in provincia di Salerno, dove insieme al nostro Fimi Palm andremo a vedere tutte le stradine di questo bellissimo posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il maggior sostanziamento economico di questa frazione, ma ciò è fatto anche perché è veramente molto bello passeggiare e stare in questa zona balneare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.